E' terminata ieri pomeriggio la demolizione della villetta incontrata a Maddalusa da Grigento della famiglia Piraneo. L'immobile era inserito nella lista dei primi otto fabbricati da demolire, su cui pende una sentenza che li ha dichiarati abusivi perché ricadenti nell'area sottoposta ai vincoli paesagistici e destinatari di un'inciunzione di demolizione. La rasatura al suolo del villino della famiglia Piraneo era iniziata tra le proteste dell'avvocato Giuseppe Arnone e dalla manifestazione dei residenti di Contrada Maddalusa che erano riusciti per ben tre volte a fermare la ruspa. Le demolizioni degli immobili abusivi ad Grigento sono ricominciati dopo 15 anni dagli ultimi abbattimenti. A sbloccare il caso sono state le pesanti lettere del procuratore aggiunto di Agrigento Ignazio Fonzo che ha intimato un palese out-out al comune di procedere agli interventi per radere al suolo i fabbricati abusivi. Prima della villetta di Contrada Maddalusa le ruspe avevano già demolito un muro di 80 metri e un ovile in Contrada Poggio Muscello mentre erano già state abbattute spontaneamente dai proprietari la cucina del ristorante Cocalos e due magazzini uno in Contrada Cugnovela e uno in via degli imperatori. Le ruspe incaricate dal comune di Agrigento adesso si sposteranno in via Afrodite, una strada all'ingresso della zona baleare di San Leone. Lì bisognerà demolire due fabbricati appartinenti ad un vecchio ristorante non più in attività. Terminata questa tornata di demolizioni il sindaco di Agrigento Lillo Firetto cercherà ulteriori fondi da poter spendere per continuare gli abbattimenti degli immobili abusivi. Il primo cittadino ha già richiesto alla Regione Sicilia di attingere dei fondi riservati alla Presidenza.